Innanzitutto doppi auguri perché ieri ti sei sposato, quindi una doppia festa. Grazie, dovevo cambiare qualcosa, per far sì che vincesse dovevo cambiare qualcosa. È stata una grande vittoria, una grande gioia. Ti posso dire sinceramente che abbiamo due coglioni così, ma proprio giganteschi. Se abbiamo il pinturicchio qua di Afragola. Vai, vai, dico qualcosa. Hai stretto i denti perché non eri al massimo, ma quanto volevi stare in mezzo al campo dello circo? Eh, tanto. Mancavo dal campo, comunque da Cesena. Avevo tanta voglia di tornare in campo, soprattutto per quest'ultima partita. Quindi ho stretto i denti e finalmente, dai, si è avverato quello che cercavamo da inizio anno. Dopo tutte le sfortune, così è ancora più bello. Che emozione hai provato al gol? Bellissima, un'emozione bellissima. Pensa che ho fatto lo scatto più lungo del mio campionato, da aria a aria. Quindi, un'emozione incredibile. Ma che gol hai fatto? È il pinturicchio, la messa là, è la golena. Ha tirato una scarpata e è andata lì. L'anno prossimo, se vi dico San Siro, Juventus Stadium, eccetera, cosa provate? Eh, solo a pensarci viene la pelle d'oro. Inquadra quello, abbiamo fatto un miracolo, abbiamo fatto un miracolo, guardalo lì. In pratica era... Ha fatto il guai quest'anno, eccola, quindi gli abbiamo regalato un bel sogno. Un miracolato, un miracolato. Gli abbiamo regalato una gioia, finalmente. Dai, di qualcosa, bro. Voglio ringraziare i ragazzi. Ho provato a rovinarli tutto l'anno. GPS, porto due. Ti giuro, è giusto che diamo fuoche ai GPS. Se c'hai il coraggio, diamo fuoche ai GPS. Grazie, ragazzi.